Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare realmente la Costituzione canale. Ora il Signor Sindaco vorrà procedere alla comunicazione della composizione dell'Aggiunta Cusunale. Grazie Presidente. Riservo a me e al Sindaco di Napoli le seguenti deleghe. Promozione della pace, cooperazione decentrale, beni confiscati, attuazione del programma politico, autonomia della città, neomodicipalismo, difesa e attuazione della Costituzione, relazioni internazionali, città metropolitana. Conferisco ai sottolinegati assessori le deleghe amministrative a fianco di ciascuna dei sindicati. Raffaele del Giudice, Vice Sindaco, Assessore all'Ambiente. Con delega a Ambiente, rifiuti, igiene della città, barchi e giardini, protezione civile e sicurezza abitativa, edifici stofici, rapporti con le municipalità, coordinamento funzionale delle partecipate operanti e dei settori di competenze. Ciro Borrego, Assessore allo sport, con delega a Sport e Pianti Sportivi, pubblica illuminazione e politica energetica, cimitelli, gestione del patrimonio, demanio, autoparchi. Mario Calabrese, Assessore alle infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, con delega a Ambiente, infrastrutture, coordinamento dei grandi progetti, coordinamento per la realizzazione di lavori e opere pubbliche, mobilità urbana, metropolitana, trasporto pubblico locale, barcheggi, strade, suona e sottosuono, acqua pubblica e circolo integrato delle altre, porto, smart city, impianti tecnologici, coordinamento funzionale delle partecipate operanti e dei settori di competenze. Alessandra Clemente, Assessore ai giovani, con delega a Giovani e politiche giovanili, creatività e innovazioni, start-up, immagini e promozioni della città, toporomastica, educazione alla legalità, centro obbligo degli acquisti, trasparenza amministrativa, sicurezza urbana e polizia municipale. Gaetano Daniera, Assessore alla cultura e al turismo, con delega a Cultura, Turismo, Biblioteche ed Archite. Roberta Carita, Assessore al web web, con delega a Politiche Sociali, Migranti, Famiglie e Politiche Familiari, pianificazione e attuazione, piano socio-sanitario, sanità e rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari, tutela della salute, tutela degli animali, coordinamento funzionale delle partecipate operanti e dei settori di competenze. Salvatore Palla, Assessore al bilancio e alla finanza, con delega a Bilancio, programmazione economica, finanziamenti europei, investimenti e pubblici, controllo della spesa, risorse strategiche, attributi, politiche di direzione, coordinamento e controllo delle società partecipate e di concetto con gli assessori competenti ai rispettivi settori. Anna Maria Palmieri, Assessore alla scuola e all'istruzione, con delega a Scuola, istruzioni, asemini, impianti tecnologici, diventano studio, l'oltre a dispensione scolastica, attuazione e integrazione scolastica dei bambini diversamente alti, emigranti e bisogni di due tipi speciali, BES, città dei bambini, progetti speciali per l'infanzia. Enrico Panini, Assessore alla laurea e alle crisi e alle attività produttive e al personale, con delega, lavoro, sviluppo economico, commercio e mercati, artigianato, pubblicità e affissioni, tutela di consumatrice, polizia amministrativa, impianti tecnologici, politiche per la casa, personale, avvocatura, statistica, naiva per Stato civile, servizio elettorale, protocolli e archivi correnti, licensimenti, informatizzazione, rapporti con l'involuzione giornale, coordinamento funzionale delle partecipate operati nei settori di competenze. Carmine Piscopo, Assessore al diritto alla città, politico urbano, paesaggio e beni comuni, con delega, politico urbano, spazio pubblico urbano, urbanistica, centro storico e sito unisco, coordinamento delle politiche e delle azioni per il territorio, valorizzazione del patrimonio, impianti tecnologici, beni comuni, democrazia partecipativa, edilizia pubblica, edilizia privata, alti autoscritto edilizio, condono edilizio, coordinamento funzionale delle partecipate operati nei settori di competenze. Daniela Villani, Assessore alla qualità della vita e alle varie opportunità, con delega di qualificazione urbana, decoro e arredo, aree abbandonate, medi tempo, nuove centralità, diritto all'integrazione, terra e agricoltura, mare, varie opportunità, politiche di contrasto alle violenze. Grazie. 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 ai consiglieri nuovi, entranti, di un consiglio comunale che lascia sperare a un confronto dialettico alto, importante, forte. Ci sono anche tanti consiglieri di esperienza in questo consiglio comunale e tanti consiglieri nuovi. Abbiamo sicuramente la grande forza che è venuta in questa esperienza politica dalle piste civiche che ci hanno portato nuovamente ad amministrare questa città. Abbiamo per la prima volta anche la presenza di importanti esponenti della politica nazionale e del consiglio comunale, mi rafferisco ovviamente in particolare alla consigliera Valencia e alla consigliera Carfagna e ovviamente abbiamo per la prima volta, e ne siamo lieti nel consiglio comunale, la presenza di due esponenti di un movimento politico assai importante a livello nazionale, che è quello di cinque stile. L'esperienza di Napoli è la vera novità del nostro Paese. Quello che è accaduto nella recente competizione amministrativa ha consegnato al Paese una novità forte, consolidata, che la rivoluzione si può fare governando e la si può fare in momenti difficili andando in modo assolutamente di controtendenza rispetto al pensiero comunale. Non era affatto facile essere eletti nuovamente e io voglio ringraziare ovviamente la maggioranza, ringraziare la squadra, ma ringraziare soprattutto i tantissimi militanti, perché i militanti che hanno votato per Vigile Magistris sono andati a votare e quindi non è il nostro un voto di minoranza. Abbiamo dimostrato di non piegarci in momenti difficili, abbiamo tenuto alta l'attenzione politica e istituzionale su questa città, non abbiamo rinunciato la nostra visione. Oggi Napoli è l'unica anomalia in termini di autonomia politica espressa a livello nazionale. Noi non abbiamo rappresentanti nelle istituzioni nazionali, non abbiamo direttamente rappresentanti nelle politiche di maggioranza del nostro paese, rappresentiamo esclusivamente la nostra città. In questo momento il pensiero della città tutta che intendo interpretare va a chi è rimasto vittima di due vicende molto diverse ma assolutamente erettiche nella inaccettabilità. Una è quella che ha veduto in una terra a noi e quella della pubblica. Io trovo inaccettabile da ogni punto di vista che mentre ci sono politiche nazionali che da anni si ostinano a distruggere un pezzo di paese al confine con la Francia per costruire un'opera pubblica assolutamente inutile, dannosa, che massacra l'ambiente, conserva il gruppo, che sperpera denaro pubblico e che favorisce ricche mafie, mi riferisco alla TAP di Valdisusa, abbiamo ancora pezzi del nostro paese, in particolare sul d'Italia, in particolare nella tratta che va dalla provincia di Vani fino a Reggio Calabria, un binario non elettrificato, a gasolio, ci manca poco che ci siano le persone che ancora e mettono il carbone per far accendere i motori del treno e vittime di quella tragedia ovviamente sono studenti, sono pendolari, sono persone in estrema difficoltà sociale ed economica. Poi la tragedia inizia. Quella è una fotografia che noi eravamo appicati a vedere o ad un film dell'horror o un romanzo, o legge un romanzo di fantascienza. Allora noi tutti ci dobbiamo interrogare che cosa sta accadendo nel mondo e non è qualcosa che è lontano da noi. Quindi noi oggi non possiamo parlare nel primo giorno dell'insediamento solamente di bughe e di altri da votare, che sono due delle priorità ovviamente di questa amministrazione, ma una città come Napoli che non si vuole piegare il pensiero ultimo ai bombardamenti, alle guerre, all'oligarchia, alle tecnocrazia, all'Europa delle banche, delle finanze, delle monete utile solamente, noi ci vogliamo interrogare che cosa accade nel mondo e quindi nei prossimi cinque anni una cosa di cui siamo certi è che Napoli rafforzerà le politiche della solidarietà, dell'amore, dell'accoglienza, della fratellanza. Città di mare, città con profondissime radici culturali, città che non consentirà a nessuno di alzare l'una e mettere filo spinato. Chi metterà il filo spinato? Noi daremo cesuie per tagliare il filo spinato. Nella nostra città non vogliamo ancora di più di più di più. Mi sento il sindaco di tutti, quindi cercherò di garantire anche in quest'Aula e fuori da valore al giusto equilibrio tra maggioranza e opposizione. Credo che il sindaco è eletto, è eletto chiaramente da una maggioranza della popolazione, ma nel momento in cui viene eletto, nel momento in cui viene proclamato, nel momento in cui giura, nel momento in cui fa questo discorso, diventa il sindaco di tutti. Ovviamente noi faremo tutto per attuare il nostro programma politico e amministratore. Siamo prontissimi al dialogo perché abbiamo anche più maturità politica chiaramente rispetto a cinque anni fa. Io non sono nato politico, non sono nato amministratore, ho cercato di imparare in questi cinque anni e ho ancora tanto da imparare. Sono convinto che la dialettica, che il confronto siano il sale della democrazia. se respingeremo, come abbiamo fatto nei primi cinque anni, chiunque tenterà di calare su franzismi, frazionismi, che cercherà di colpirci alle spalle, sarà rispedito a vittente con la durezza che la rivoluzione che stiamo mettendo in atto garantisce. Non consentiremo a nessuno di fare quello che si è cercato di fare nei primi cinque anni. Accettiamo volentieri da parte di tutti il contributo al buon governo, ma non prendiamo e non prendo lezioni da nessuno. Lo dico senza supponenza che non mi appartiene, senza presunzione, ma non mi piace pensare che ci sia qualcuno che è in depositare la legata. Da questo punto di vista, Luigi De Magistris, per la storia personale, e ho anche la squadra che mi volo di guidare, non prendere lezioni di legalità da nessuno. Semmai può prendere lezioni di buon governo, può prendere lezioni di buon amministrazione, può prendere lezioni di città, ma non consentiremo a nessuno di presentarsi come il paladino della legalità, perché noi prima ancora della legalità, con questa amministrazione vogliamo attuare la giustizia, che è qualcosa di molto più valore della legalità. Io vi faccio parte di cercare di ridurre le distanze tra giustizia e legalità. Bene la forma, malissimo il formalismo, bene il rispetto dei procedimenti e delle procedure, malissimo la burocrazia ossessiva. Miglia ci hanno votato perché siamo diventati bravissimi, perché Napoli è diventato il paradiso del resto, sicuramente siamo stati votati perché hanno apprezzato impegno, capacità, autonomia, coraggio, onestà e sicuramente anche perché la fotografia di Napoli rispetto a cinque anni fa è tutta altra fotografia, ma c'è tanto da fare tantissimo, a cominciare dall'organizzazione della macchina amministrativa, ora in giù una parentesi, ringraziamento alle donne e i comuni, tutte e tutti, del comune, delle municipalità, delle partecipate, ma adesso attendiamo tutti insieme con una grande squadra, un salto di qualità e i servizi. L'amministrazione della prima sindacale di cui ha garantito che nessuno venisse licenziato. Abbiamo fatto una sorta di miracolo online per evitare che i servizi principali venissero privatizzati, hanno cercato di piegarci al pensiero unico del liberismo dominante, non ci siamo piegati, nel momento più difficile non ho dichiarato il dissesto e non abbiamo dichiarato il dissesto, non abbiamo licenziato, oggi è però il momento dell'innalzamento della qualità dei servizi. Fermo, restando tutto quello che abbiamo fatto, i servizi costituzionali rimangono in mano pubblica, perché questa è la città unica di dare un'acqua pubblica che non ha privatizzato il servizio dei rifiuti e le cose che già sapete. Però noi non ci possiamo accontentare di questo, noi adesso dobbiamo innalzare la qualità dei servizi. Napoli è tornato in vento a livello internazionale, ma per rimanere in vento e per andare ancora più alto, per diventare Napoli capitale, dobbiamo avere altri servizi. Non possiamo avere un fermo alta per strada, girando per i quartieri, non possiamo avere ancora una situazione complessiva di servizi che non sono all'altezza della città di Napoli ed è per questo che ci hanno votato per continuare la nostra opera. Chi si adaggia è meglio che se ne vada subito, chi pensa che noi garantiamo controllo è meglio che se ne vada in vacanza, chi pensa di voler lavorare anche a 24, mi è benvenuto in una squadra ampia, in una squadra forte, in una squadra purale, in una squadra che crede che non sia tutto, la rivoluzione la si possa fare con noi. Il Consiglio Tribunale è un po' importantissimo, ha un ruolo di indirizzo, ha un ruolo di controllo, ha un ruolo di concluso. Mi impegno affinché il metodo sia migliore di più in 5 anni. Non si può arrivare a ridosso delle votazioni, bisogna fare un gran lavoro tra amministrazione, commissioni, Consiglio Comunale, dare grande dignità e grande rispetto a quest'Aula e chiedendo alle commissioni di lavorare ancora meglio rispetto ai primi. 5 anni. Un lavoro insieme che non significa commissione, che non significa occhietti politici, che non significa sguardi al bicchetto, che non significa rispetto, confronto, dialettica, per cercare di trovare sicuramente la sintesi civile. Ma in campagna elettorale mi sono impegnato anche ad altri. Benissimo la democrazia del sindaco eletto dal popolo, benissimo il ruolo degli assessori, ancora più bello il ruolo del Consiglio Comunale, ancora più magnifico il ruolo delle municipalità, ma non basta. La gente vuole contare, vuole contare la gente che conti per strada, dei licoli, delle piazze, dei quartieri, delle periferie, che io non ho voluto chiamare periferie, ma non perché non lo siano ancora, e ne ho chiamate le nuove centralità, perché noi cominceremo soprattutto da lì, dagli ultimi, da quelli in difficoltà, da quelli che sono rimasti indietro. Ma noi li dobbiamo far contare, e non è nemmeno più sufficiente la democrazia dell'ascolto, la democrazia partecipativa, la democrazia delle consulte. Ci siamo impegnati a dare più potere al popolo, significa che per tante scelte che noi prenderemo, andremo nei territori, e il territorio deciderà, e quello che decide il territorio, diventa a parere vincolante per questa amministrazione. Connessione sentimentale umana, ma anche connessione politica. Così si costruisce un nuovo rapporto politico nella città. Decide la città. Così come non consentiremo al Presidente del Consiglio di reiterare una scelta di violenza istituzionale nei confronti della città, con il commissario Aretto di Bagnoli, allo stesso tempo noi non dobbiamo cedere sovranità, come dice qualcuno, ma bisogna riconsegnare sovranità a chi sovranità per troppo tempo non la vuole. Altrimenti l'articolo 1 della Costituzione diventa un esercizio di retorica politica. che assomiglia qua alla tecnologia populistica. Io dico un'altra cosa, che se c'è un pezzo di area abbandonata in un determinato quartiere della città, che noi vogliamo consegnare alla città, andiamo in quel quartiere e diciamo cari amici, cari abitanti, cari concittadini, voi che cosa volete fare in quel pezzo di città? Insieme ci decide, chi decide la città? Questa non è retorica, questa è rivoluzione governante, è autogoverno, è autogestione, è democrazia popolare, è quello di volentare far diventare anche Napoli capitale di un nuovo modo di fare politica. E noi ci impegneremo perché Napoli si è nascuto la capitale del riscatto morale, dell'etica, dei giovani, ma anche sì dell'autogoverno. Altra parola, meccano, quando ero in magistratura mi dicevano che l'autogoverno difendeva i magistrati, non sempre è stato così. Speriamo che in politica l'autogoverno possa significare quello che Gramma ci ha cercato di insegnare per tanti anni, cioè che la connessione sentimentale non è un'esercizione totale, non è solo l'empatia, così dove si vada, così dove si vada, l'assessore va bene, significa costruire rapporti politici. Siccome noi saremo sempre ristrangolati dalle politiche liberiste e quando noi abbatteremo la democrazia di una rivoluzione forte che noi vogliamo portare oltre i confini della nostra città, loro non faranno altro che strangolarci, perché il potere centrale, le oligarchie, le tecnocrazie vogliono il soffocamento delle democrazie di prossimità, dell'autogoverno e del popolo, che deve contare solo nel momento elettorale, poi deve stare a consaio e deve stare là col cappello in mano per chiedere lavoro e per chiedere dignità. La neo funziona così, da noi insieme si decide, insieme si governa, insieme si fa Roma per colpare per i diritti della nostra città e per un sud diverso che non sta col cappello in mano, magari ha acquistato grande dignità e grande orgoglio. Noi non prendiamo lezioni da nessuno, chi pensa di continuare a mettere le mani sulla città commissariare deve ricordarsi che a Napoli a Giugno si è votato e abbiamo fatto la campagna elettorale sulla libertà. A Napoli è anche capitale dei diritti, delle libertà civili, una città che ha avuto il coraggio di dimostrare che battaglie per la pariopportunità, per la parità di genere, per la trasversione dei matrimoni a persone dello stesso tempo, per il sesso, per il testamento biologico, per il recesso degli autodicibili, per l'Ubben e per l'altro, non sono battaglie che si fanno perché politicamente non vengono, non ci interessa se sono battaglie di minoranza o di maggioranza, sono battaglie costituzionalmente doverose ed è per questo che Luigi De Magistris si schiererà in campo per la difesa della Costituzione nei prossimi mesi, perché la Costituzione non può essere piegata dall'arrotanza, dalla maggioranza, o meglio dalla minoranza di qualcuno non eletto che pensa che la Costituzione si può piegare agli interessi delle uniche archie e della concentrazione di potere. Come diceva Piero Calandrei, la Costituzione è tutti, siccome la Costituzione è tutti, il dovere è di uno di voi, spenderla. E scusatemi, consigliere e consiglieri, a quattro, basta di prenderla su, noi la dobbiamo a quattro, leggo ancora che l'ultimo 12 articoli della Costituzione repubblicana sono norme programmate e le altre sono norme precedenti. E quando verrà il giorno che quelle norme programmate sono precedenti, se ormai sono passati 70, 80 anni da quelle lotte, allora come dire, riconoscere a tutti gli stessi diritti nelle diversità è una battaglia politica, è una battaglia costituzionale e che l'abbiamo fatta, e l'abbiamo fatta domanda una sintesi tra componenti di sinistra, componenti cattoliche, componenti movimentiste, componenti progressiste, conservatori, bene, il Vigile Magistris non è il sindaco della sinistra, pur essendo forse il sindaco più a sinistra di Dato. Io credo che sono stato eletto da tanta gente che non ha fatto questo, però ha capito che in questo momento c'è un progetto e una visione di città. Nei prossimi cinque anni continuerà a fare il sindaco delle istituzioni e il sindaco di Stato. Delle istituzioni si dipende, noi vogliamo dialogare con tutti. Ho dato un segnale anche dopo la mia elezione, ho scritto al presidente del Consiglio, ho scritto al presidente della Regione, noi dialogheremo e dialogheremo con tutti, con tutte le istituzioni, mantenendo la nostra forza, mantenendo la nostra autonomia, ma continuerò a sforcere quel ruolo politico per me indispensabile e per noi indispensabile che è quello del sindaco e quello del sindaco di Stato che ci ha dato grande forza anche nei momenti difficili perché siamo consapevoli che questa amministrazione è vista come politicamente e socialmente pericolosa in molti ambienti nazionali del nostro Paese. Allora noi sappiamo che se prendiamo le distanze dal popolo e non riusciamo a mantenere quella connessione, noi diventiamo un versaglio politico mobile facilmente colpibile. Quindi il sindaco di Napoli, Luigi del Magistris, continuerà a fare quei 6-7-8 km al giorno a ascoltare, a prendersi contestazioni, a prendersi critiche, ma non mancherà mai guardare negli occhi la gioia e le sofferenze in questa città le opportunità e i limiti perché abbiamo deciso di riprendere un'attività che ci ha anche consumato. Amiche, amici, consigliere, consiglieri, cittadini, presenti e chi ci ascolta i stream, 5 anni di governo di Napoli sono stati complicati, è inutile che ci hanno ascoltato. Noi abbiamo deciso perché siamo persone mature di volerci ricandidare quindi lo facciamo con una situazione entusiasta ma con la consapevolezza anche di quali sono sicuramente i nostri i nostri dalle idee leghe che ho un po' anzi enunciato avrete notato che ci sono degli aspetti che noi abbiamo sottolineato molto in campagna elettorale. Ne cito qualcuno, un nuovo assessorato che ha dato tanta importanza alla qualità della vita e della pari opportunità da una parte c'è la lotta che si deve ancora consolidare per evitare che ci siano ancora violenze di genere e inaccettabile che ci siano ancora violenze contro le donne contro i bambini che ci sia una patria e una patria nella nostra città. Quindi questa è una battaglia di città nella quale crediamo molto. Così come l'abbiamo detto in campagna elettorale cercheremo di dare il massimo cominciando proprio dai voti dove ancora non si è vista l'azione forte che l'amministrazione ha messo in campo. L'amministrazione nei primi cinque anni ha fatto molto contrariamente a quello che si dice non è questa la sede per fare del regno lo faremo quando volete lì abbiamo fatto il caffale elettorale l'abbiamo documentato delle azioni strutturali che sono state fatte nelle periferie ma l'altra di scatto non si vede ancora chiaramente c'è un bilancio rispetto alla città internazionale che fa il giro del mondo dal centro storico al mare insomma ai quartieri turistiche mentre invece a noi compete di curre anche le distanze dell'apparenza anche le distanze delle immagini quindi l'impegno che dovrà essere di noi a lavorare per il miglioramento della qualità della vita in tutta la città va a cominciare proprio dalle aree di maggiore di grado che devono diventare nuove centralità dell'azione politica e dell'azione amministrativa non a caso è scomparsa la visione assessore al patrimonio forse qualcuno l'avrà notato e l'abbiamo sostituito con l'assessore al diritto alla città e noi crediamo che il patrimonio della città sia qualcosa di particolarmente importante sia qualcosa che deve essere più sul volto messo al reddito e quindi abbiamo messo una squadra a parlare sul patrimonio dall'assessore biscovo che avrà il ruolo di valorizzare l'indirizzo politico e il patrimonio affiancato da due validissime assessori che nella loro parte voleranno le politiche per la casa e la gestione materiale la gestione materiale del patrimonio avete potuto notare che ho potuto dare dei segnali chiari mi sono tolto molte idee il sindaco di Napoli deve curare tante cose deve curare il traspetto della città deve girare le strada deve meglio organizzare i servizi si vuole dedicare a una macchina amministrativa a due coordinare vuole avere il tempo da dedicare ai cittadini alle forze politiche a consiuto una quindi delle importanti sono state date le grandi sfide quella che avrà anche Alessandra comenta sulla polizia municipale noi ci aspettiamo anche qui dei miglioramenti forti ovviamente a risorse puntate quindi non faccio un eneco benissimo ma è molto chiaro diciamo nella delineazione che ho fatto delle deleghe e noi puntiamo una visione di città una città che cura il suo ambiente che cura il paesaggio che dia grande forza ai pericoli alla democrazia partecipativa che dia grande forza come abbiamo dimostrato alle politiche sociali alla scuola insomma ai tutti i settori strategici a cominciare dai giovani e dove abbiamo bisogno anche però di un'iniziativa forte sulla produzione e l'immagine della nostra città non nascondiamoci dietro a un dito questa città è stata nei cinque anni che ci hanno cresciuto massacrata non voglio generalizzare ma sono stati massacrati a questa mediativa e chi se le scopre le campagne oltre la città come c'è l'acqua che tu stai passando nel tuo bicchiere bevi Napoli e poi muovi la città da cui dovevi per forza scappare però abbiamo bisogno noi ho detto anche in questo breve intervento avete volto immagino una riflessione autopritica e se dico che ci sono tante cose che non vanno questo è importante quindi noi dovremmo darci un metodo che ha anche un metodo nello step quello che possiamo fare oggi quello che possiamo fare domani quello che possiamo fare dopo domani quello che si può fare a breve termine a medio e lungo tempo però chiediamo anche qualcosa a chi finora non ha fatto nulla per noi nulla anzi che ha fatto di tutto per farci cadere e solo con modalità diverse e con atteggiamenti diversi di quattro governi liberisti con i quali ci siamo risultati il governo Berlusconi il governo Monti il governo Monti il governo Letta e il governo Letta cioè non è accettabile che questa città non abbia l'attenzione riservata alle altre grandi città del nostro paese non voglio legare le leggi speciali che verranno non so se adesso il nuovo sindaco a cui auguro un lavoro sarà anche lei che si è natale di un'altra legge speciale sappiamo che Milano ha avuto con sé preferenziali sappiamo tutto tutto dopo il tempo noi abbiamo fatto la rivoluzione nonostante ci devessero la mascherina del veleno attaccata al naso e il tentativo di strangolarci e di toglierci lo singolo Napoli è una città che resiste però se io vi devo dire qual è la principale domanda che mi hanno fatto in campagna elettorale i cittadini dalla periferia al centro dal nord al sud da est a ovest della città è la scurezza noi non possiamo accettare mentre c'è una città che si scatta dal punto di vista culturale mentre ci sono energie culturali lucaniche mentre c'è un movimentismo dal basso a prescindere da questa amministrazione c'è una criminalità che ha anche degli atteggiamenti odiosi e violenti di draconanza e di minaccia a una convivenza pacifica nella nostra città e allora qua il paese deve decidere o c'è una scuola come si fa nei paesi a Rosasso io la metto là con somante non è una mia ricetta però o si fa una scuola a Rosasso che si fa a potere ai siti come accade nei stati e allora chiaramente puoi aprire un'altra forza a livello di organizzazione della sicurezza ormai oppure lo Stato smetta di tagliare i servizi essenziali non può tagliare le scuole non può non affrontare le politiche dell'altro e dell'industria non può affrontare la scuolezione perché poi come voi sapete qua fuori tanti concittadini tanti amici tanti amici tante persone che ci hanno votate altri nomi ma quali le pertenze quali sono le pertenze il lavoro il lavoro così è il sindaco noi possiamo dei pari con attività il lavoro possiamo creare le condizioni per che ci sia sviluppo lo stiamo facendo lo faremo ancora meglio con l'aido di tutti vogliamo creare un nuovo rapporto tra pubblico e privato lo stiamo facendo basta con queste europeanze sia la libera concorrenza sia le condizioni per parità per tutti sia la meritocrazia sia la roba alla collusione e alle opacità e alle integralità no? insomma che qualcuno si assumesse la responsabilità di cominciare a fare solo annunci come è stato fatto in modo detenzioso in campagna elettorale ma ci attendiamo la stagione della confidenza Luigi De Magistris la sua maggioranza mi auguro tutto il Consiglio Comunale la nostra giunta è pronta a essere convocata adesso in Taracoma aprire il tavolo rifacciamo il tavolo questi cinque anni ammaludiamo tutto quello che abbiamo realizzato è forza dell'organizzazione nostra del capitale partenopeo fin anche della lotta agli sprechi della capacità di incassare meglio di fare la lotta all'evasione e c'è tanto che annunceremo nei prossimi giorni anche in sede di bilancio particolarmente significativo quindi noi non lasceremo dietro nessun gli impegni che abbiamo preso li rispetteremo nessun lavoratore sarà mandato a casa ma a terreno pubblici i servizi essenziali consolideremo la mission dell'acqua pubblica cercheremo tutti insieme di innalzare i servizi a cominciare da quei servizi ordinari quotidiani quando esce la mattina che vuoi trovare una città più pulita e quando torni a casa che la potresti trovare più sicura alcune cose commettono a noi e ce le facciamo cari il nuovo metodo è questo io darò degli obiettivi se gli obiettivi non si realizzano si deve cambiare strategia e se è del caso si devono cambiare anche persone che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi perché questo è il secondo mandato e il secondo mandato non puoi semplicemente dire che se la da fa una municipalità questa deve fare una nuova di servizi questo la deve fare a giù questa è stata una battaglia che ancora adesso non abbiamo vinto c'è una battaglia di rivoluzione contro i sistemi contro gli apparati contro i martini contro le mafie contro la camorra contro la corruzione e poi magari ci perdiamo tra la municipalità e il valore di servizi quindi le persone e gli assessori ci hanno tutti attivi chiari voi controllate se si sbaglia si viene ammazzati questo è il messaggio che voglio dare chiaro e forte perché io non posso più consentire noi non possiamo più consentire che ci sia un balletto di responsabilità quindi un messaggio chiaro anche alla macchina amministrativa e la macchina amministrativa ho visto persone eroiche ho visto persone fare straordinarie senza essere pagate ho visto persone bravissime ho visto anche chi si è messo di tramezzo ho visto anche chi ha ristorato lato ho visto anche chi ha giocato sport ho visto anche il video quello che ti dice sempre non si può fare salto a erbo italiano non si può fare non si può fare casa da valuta quello che è scritto nel programma si deve fare dal sindaco all'assessore alle municipalità quindi con controllo e l'indirizzo del consiglio ai funzionari ai dirigenti a tutto il personale anche di staff che collabora all'azione politica all'inizio signori ho fatto una campagna elettorale che stava in corpo a corpo chiudo su questo non è stato facile tant'è che quando i media volevano raccontare la campagna elettorale perché noi non siamo né il centro-sinistro né il centro-destro né il 5-7 ma siamo esistiamo oggi dovevo su non solo ci abbiamo messo anche il gruppo ci abbiamo messo il pensiero e ci abbiamo messo l'azione abbiamo sconfitto tutto tutti e non erano avversari facili erano avversari complicati abbiamo mandato le mani in guida continueremo a fare la lotta dalle mafie perché noi riteniamo che questo paese sia ancora intriso di mafia e corruzione tant'è meno che io domani starò a Valerba come sempre negli 8 anni a Via D'Amelio perché fin quando non ci sarà verità sulle stranze ci sarà ancora tanta mafia all'interno delle istituzioni Napoli rappresenta anche un momento importante in questa città c'è un'amministrazione c'è un sintomo che non è ambito su questi periodi non è ambito il tema della corruzione e delle mafie quindi la campagna elettorale è stata pesante è stata difficile non è stata banale non si è vitti per cazzo e l'esperienza napoletana noi la porteremo fuori i confini di Napoli perché Napoli oggi è politicamente forte la nostra esperienza è forte non è un'anomalia risicolare non è un panda che bisogna proteggere o aiutare questa è un'esperienza politica che noi porteremo fuori perché fa bene abitare a Napoli morte fa bene abitare a Napoli autonoma va bene abitare a un sotto che si riscatta e non si piega e si emanci che trovi orgoglio nella propria terra nel proprio luogo in cui si convive in cui si realizzano società orizzontali e non verticali noi batteremo ogni forma di logarchia e di doppia e tecnocrazia non ci piacciono le conquistioni non ci piacciono il compromesso morale non ci piacciono le cabine di legia che puzzano lontano miglio a noi piace la democrazia piace le istituzioni e piace anche la sfida di dare potere anche il potere di non abberto se non a chiacchiere che è il voto quindi quell'impegno compreso lo manteremo è stata una battaglia complicata la via vinta con il dà quindi continueremo a governare con il dà con la consapevolezza che faremo errore che sicuramente staglieremo già qui a poco ma manterremo in orgoglio la nostra autonomia e sicuramente non ci faremo piegare anzi e giudo ci andremo a prendere il consiglio a prendere come si usa a fare il democrazia ci andremo a prendere il maldotto ci andremo a prendere con il 250 anni ci andremo a riprendere i nostri diritti difenderemo la costituzione chiunque vuole aiutarci a questo percorso sarà bellissimo altrimenti continueremo a riparare con la nostra maggioranza con le nostre mani con la nostra tenta con il nostro corpo con la nostra passione noi abbiamo dei valori l'ho detto anche in campagna elettorale che al mercato che sono appunto la passione il coraggio l'autonomia l'onestate quella SBA è tutta la monedata visto che SBA è una società per affetto e per affetto una città che vuole essere anche una città di favore dell'accoglienza e della solidarietà quindi abbiamo finito carichi non ci siamo scaricati in campagna elettorale e se ve lo posso dire io personalmente spero anche gli assessori spero anche voi io sento ancora più carico rispetto ai 5 anni precedenti perché questa è una sfida che mi ha riempito di responsabilità i cittadini sono quello che vogliono e quella è la mia mission quella è la mia direttrice il sindaco se c'ha padrone tra le colette perché io padrone non mi offro un nuovo libro non lo saro sempre è il popolo che mi ha eletto è il popolo di Napoli tanto ho prestato giuramento perché prestare giuramento alla Costituzione si dipide innanzitutto prestare giuramento all'anticorso con la solidarietà che appartiene al popolo che si esercita nei modi e quali con la realità previste dalla Costituzione pubblica io ci sono ci sarò sempre non scapperò mai i prossimi 5 anni lì vi trovate e vi trovate per strada assaggiamolo qui in mezzo alla gente guarda forza con i tanti pesanti viva Napoli e viva il popolo grazie a tutti 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 grazie a tutti